Domenica sera alle 19, ricordatevelo già da adesso, dovrete venire in live, ma al di là di questo, sia questa domenica sia la prossima domenica, la live c'è ed è alle 19, mi raccomando ricordatevelo, però al di là di questo io sto pensando, sì, c'è bisogno di darci una data e secondo me va bene proprio questa domenica, quindi noi domenica, se non saremmo riusciti a cacciarla, allora la banneremo una volta per tutte a questo punto, secondo me, se siete tutti d'accordo. La corona però, va via. Pazienza, cioè ci stiamo dando proprio questo limite massimo, noi speriamo di ucciderla prima, di prenderci la corona e tutto, ma se non dovessimo riuscirci, domenica la cacciamo e poniamo fine a questa vicenda. Parliamoci chiaro, se lei non c'è più la corona manco serve. Eh beh, insomma, era divertente anche averlo tra di noi, però potremmo anche ritornare alla mia. No, sì, sono tutti d'accordo. Ok, allora, Cico, vota pure tu se vuoi. Io voto, eh non lo so però, perché io mi piaceva la corona, cioè.